La comunità scientifica proveniente da tutto il mondo riunita a Trani sullo splendido scenario del porto per discutere della qualità e sicurezza alimentare dei prodotti di quarta gamma, ovvero le confezioni di ortaggi e frutta pronti per il consumo. Il tema mette al centro dell'attenzione alla Puglia, regione protagonista delle produzioni ortofrutticole per il consumo fresco. L'evento organizzato dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Foggia alterna gli interventi di più di 200 docenti universitari e ricercatori di fama mondiale. Il coordinatore scientifico del progetto è il professor Giancarlo Colelli, docente alla Facoltà di Agraria dell'Università di Foggia. Il punto della situazione sulla ricerca internazionale sulle applicazioni di atmosfere controllate e modificate. La crema degli scienziati mondiali, abbiamo 230 partecipanti da 43 paesi. L'abbiamo voluto fare in Puglia perché la Puglia naturalmente rappresenta in termini di produzione orto vendibile una delle regioni più importanti in Italia dal punto di vista dell'ortofrutta. La Puglia rappresenta un territorio molto promettente anche dal punto di vista delle prospettive di applicazione di queste tecnologie. Pensiamo a tutto il discorso relativo all'uva da tavola, alle ciliegie, alle drupace, agli ortaggi e poi tutto quello che riguarda il discorso della quarta gamma. L'importanza dell'atmosfera modificata e dell'atmosfera controllata nell'industria del prodotto fresco e della quarta gamma non deve essere sottovalutata perché senza imballaggi in atmosfera modificata, senza container in atmosfera modificata, senza container e celle di conservazione in atmosfera controllata non c'è trasporto, non c'è conservazione dei prodotti deperibili attraverso il mondo, non c'è mantenimento della qualità, non c'è mantenimento o garanzia della sicurezza, non c'è estensione della vita commerciale del prodotto e quindi l'atmosfera modificata, l'atmosfera controllata, tutte le tecnologie legate all'imballaggio sono un punto chiave per l'approvvigionamento alimentare nel mondo, soprattutto adesso che l'impatto e la consapevolezza della sicurezza alimentare assume una importanza assoluta. Questa conferenza è un punto chiave per l'industria anche per le connotazioni di collaborazione fra le imprese e le istituzioni scientifiche per risolvere i problemi globali del prodotto alimentare attraverso il trasporto aereo, il trasporto marino e il trasporto via terra degli alimenti e dei materiali nel mondo.